amici di tech different ben ritrovati primo podcast con le news più interessanti della settimana che trovate sul nostro sito internet e magari se si tratta di video anche sul nostro canale youtube partiamo subito dall'errore 53 di apple che coinvolge tutti i dispositivi con tacidi e anche gli utenti americani utenti apple americani che per questo errore vogliono fare una classe action all'azienda di divertì poi abbiamo anche una nostra mini guida su come migliorare dal 15 per cento addirittura le prestazioni della batteria di iphone ipod touch ed ipad semplicemente eliminando l'applicazione facebook ma senza rinunciare appunto a social network passiamo ora al confronto tra htc one a 9 ed iphone 6 due dispositivi identici diciamo esteticamente ma diversi sotto il cofano come si dice in gergo quindi scoprite anche questo confronto passiamo ora ad htc one m10 con le ultime novità sulla fotocamera e soprattutto un nuovo render diceci poi nei commenti se vi piace il nuovo render il nuovo render che è apparso online poi parliamo anche abbiamo parlato anche di lg g5 che verrà presentato al mobile world congress con caratteristiche tecniche di tutto rispetto ed addirittura un probabile magic slot vi invito a leggere l'articolo per scoprire di cosa si tratta chiudiamo con la ciliegina sulla torta ovvero la nostra recensione di honor 5x dispositivo molto interessante con fingerprint dual sim display da 5,5 pollici con finiture davvero molto molto belle e un design davvero elegante il dispositivo è stato presentato il 4 febbraio a moraco di barbiera dove noi eravamo presenti e vi avevamo proposto anche le prime impressioni quindi dateci un occhio anche alla nostra recensione tra le prime finalmente tra le prime in italia e potete appunto magari confrontarle con altre recensioni di altri dispositivi magari quella con honor 6 o un 6 plus oppure honor 7 che vi abbiamo proposto nei nelle settimane precedenti appunto la presentazione di questo dispositivo direi che per questo podcast è tutto ovviamente vi rimando alla nostra pagina youtube vi rimando anche alle ai nostri canali social dove potete interpellarci per problematiche dispositivi consigli pareri e quant'altro e ovviamente al nostro sito tech different punto it dove cercheremo sempre di darvi le ultime news più fresche riguardo alla tecnologia non solo smartphone ma anche tutto ciò che riguarda la tecnologia quindi continuate a seguirci per questo podcast direi che abbiamo terminato podcast come vi ho detto molto breve vi ringrazio per l'attenzione un saluto a tutti e dalla prossima ciao ciao dalla redazione di tech different ciao